Salve Madonna che intro Come state? Tutto bene? Io tutto bene, fa caldo Si, si vede che si è sudato, puzzi La situazione è calda come il mercato della Roma Si, in effetti Mamma mia, allora ragazzi Volevamo parlare un pochettino Io volevo parlare e poi ho preso lui di forza Volevo parlare un pochettino Ok, puoi andartene adesso Tu metti in miniatura e te ne vai A parte le calzate Allora, volevo continuare il discorso fatto nel primo video In cui ho parlato della possibilità di Frattesi Alla Juve, a Bio, al Manchester, eccetera, eccetera Per ricollegarmi di nuovo al mercato della Roma Perché, stando agli ultimi aggiornamenti Sembra che i giallorossi starebbero pensando Di restare così a centrocampo Nonostante le cessioni di Villar Che oggi è ufficiale alla Samp E di Veretout Che da qualche giorno ormai è un giocatore del Marzia Un gesto che vale più di qualsiasi Avete capito, nella vostra testa c'era Pure se non ho detto nulla Esattamente E nonostante queste due partenze E l'arrivo di Wijnaldum e Matic Sembra che la Roma potrebbe addirittura Restare così Mantenendo i centrocampisti titolari Con Matic e Wijnaldum Ipoteticamente Con Cristante e Bove Prima alternative Ovviamente non ci sono solo loro Perché c'è la possibilità E l'abbiamo visto negli ultimi due amichevoli Con Tottenham e Shakhtar Di arretrare Pellegrini a centrocampo E sfruttare di questo Di pari passo La potenza offensiva Del tridente di Bala Zaniolo Ed Ebrano Quindi è l'unico modo Se vogliamo Per vederli tutti quanti È vero che questo dipende Anche dal fatto che Wijnaldum Deve tornare in forma Io credo che comunque L'olandese Una volta che ci sarà tornato Sarà lui il titolare Ma detto questo È una notizia che mi sorprende Poi non so te Magari dopo ti lascio la parola E me lo dici Sì 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 Perché ero convinto Che dopo l'arrivo di Wijnaldum A maltempo stesso Le partenze di due giocatori Forse anche tre Se qualche pazzo Si decide di prenderci di Avara Anche in prestito gratuito Per noi sarebbe Una cosa meravigliosa Pensavo appunto Che avremmo puntato Ad un altro giocatore Si parlava tanto di Frettesi Che però poi alla fine Abbiamo visto Costa ancora molto Quindi è difficile pensare Che la Roma farà Un investimento importante Come per un giocatore Che farà la riserva E quindi Più passano i giorni E più c'è la possibilità Che si dia ulteriore spazio A Bove Che nella mia idea iniziale Era il quinto di centrocampo Ma chiaramente Essere il quinto È vero che ci sono tante partite Da giocare Ma è un po' poco Diciamo Cioè comunque Prima di te Ci sono due titolari Due riserve E poi ci sei tu E visto che comunque Moring ha fatto capire Già dallo scorso anno Che vuole dargli Molto spazio È normale appunto Alzare un pochino La sticella E farlo essere Una prima alternativa Piuttosto che Una riserva Della riserva Fatta questo discorsone Quindi abbiamo riassunto In sintesi Il centrocampo della Roma Per quello che si dice Nelle ultime ore Tu sei d'accordo Con questa scelta? Allora In realtà In realtà il discorso è che ci sono priorità Se la Roma non può permettersi E economicamente E a livello di progettualità E a livello di tempistiche Di andare a prendere Tanti giocatori Allora è giusto che si vada Per step E per priorità Cioè È in dubbio Cioè Non c'è dubbio Sul fatto che serva Un difensore Prima Che un centrocampista Perché la difesa Non ce l'ha posto Il centrocampo sì Cioè se oggi Dovesse iniziare Il campionato La nostra difesa Non so se sarebbe sufficiente Per Fare tutto quanto Per un quarto posto Obiettivo minimo Coppa Italia Europa League Esatto Cioè se dovessi andare a paragonare Le altre difese della Serie A Io non penso La nostra Forse quattro Sono più forti Sì esattamente In attacco Come ho già detto Vabbè a me Shomurodov Non dispiaceva troppo Ma ovviamente Belotti è Belotti Quindi ci mancherebbe altro Se però rimane Shomurodov Lì anche se è apparato Nel senso Nella fine riesci a piazzare Shomurodov E ti rimane come vice Non mi piace Però se è apparato Però io non sono d'accordo Sul discorso Correllato al fatto Che Tu a centrocampo Puoi stare a posto così Perché se tu vuoi veramente Avere ambizioni Importanti Tu tecnicamente Secondo me Dovresti avere I giocatori Nei ruoli Giusti E non dire Vabbè Se mi manca uno Giocatori E non c'è Il giocatore è uscito dalla primavera Di cui però L'anno scorso Mourinho si lamentava Cioè non è che si lamentava Direttamente con Bove Però si lamentava del fatto E dovesse buttare Nella mischia primavera Perché non aveva i titolari O i panchinari Soprattutto i panchinari Oppure arretrare Pellegrini Che sicuramente Se dobbiamo gioco Tutte e quattro Lì davanti Serve che uno arretri E l'unico che può essere Arretrato è Pellegrini Però sarebbe comunque Un adattamento Cioè sarebbe un po' Come se io ti dici Cioè per me Se tu mi dici Arretri Pellegrini In mediana Che per me è un giocatore Insufficiente in mediana Allora io ti dico Allora non prenderlo Il quinto difensore Ci metto vigna Tanto ci sta giocando Ma fa schifo però lì Ok allora Diciamo che sono in parte D'accordo col tuo discorso Anche se secondo me Bove rispetto ad altri Ha sempre Non lo so Vissuto di un Di un alone diverso Rispetto ai vari Reynolds Villar Viadarbo Eccetera eccetera Non ha giocato così tanto Per carità di Dio Però ha sempre speso Mourinho belle parole Su di lui E per gli altri Magari girava Girava il discorso Ma non diceva mai Sono forti Sono importanti Lui invece comunque Su di lui ci punta E non è un caso Che non ci sia stata Neanche una minima possibilità Di partenza In prestito Perché se tu guardi Felix Ne hanno parlato Di un possibile prestito O anche definitivo Altri giocatori giovani Stessa cosa Lui è uno dei pochi Che è sempre stato considerato Quasi intoccabile Insieme a Cristante Nel centrocampo attuale Per quanto riguarda Pellegrini Io sono Per metà d'accordo con te Per metà no Perché sicuramente Si trova magari meglio Lì davanti Dietro la punta Cioè scusate Davanti dietro Comunque avete capito Come trequartista Dietro la punta È un ruolo che Ha fatto su Negli ultimi anni E nella scorsa stagione È riuscito A veramente A rendere molto Su quella zona di campo Ma io credo Che proprio La scorsa stagione Sia stata L'annata Della definitiva Maturità Di questo giocatore Che secondo me È chiaro Parliamo sempre Di un discorso Di adattamento Perché lui Lo mette nella batteria Di quelli davanti Ma secondo me Riesce a farlo Meglio Rispetto a qualche anno fa Cioè quando Era gli inizi Alla Roma Non era di facile Adattamento Nel senso che Tu lo dovevi mettere Magari all'inizio Era una buona mezzala Lo mettevi lì Poi è cresciuto Trequartista Va bene lì Se lo metti dietro No Adesso secondo me Perlomeno come stato di forma L'abbiamo visto Nell'ultimo amichevoli Sono amichevoli Per carità Però ha giocato comunque Delle ottime partite Quindi secondo me Se vuoi mantenere Il potenziale davanti Puoi anche arretrarlo Magari non sempre Però lo puoi fare Però ti dico Io non sono così sicuro Su questa cosa Ma per il semplice fatto Che Io non metto in dubbio Che Pellegrini Possa fare il centrocampista Però Pellegrini Per me da centrocampista È un giocatore normale Cioè Pellegrini da centrocampista E so che Per me è così È cristante Cioè non è che No per me è questo Cioè quando mai Pellegrini ha fatto partite Clamorose da mediano Mai Eh sì però ecco Prima magari Della scorsa stagione Cioè nel senso Prima magari Non ti faceva prestazioni Così Positive Invece Non lo so Io lo vedo in uno stato di forma Migliore rispetto Che gli anni passati Però l'esaltazione Che gli diamo La diamo quando magari Alza la testa E mette in porta Zaniolo Quando magari Si smarca e va in gol Quando batte la punizione In quel momento Tutte cose molto vicine alla porta Che portano gol Sia dai suoi piedi Sia insomma Al servizio della squadra Ho paura Sentore Che in cabina di regia O comunque col doppio mediano Lui possa veramente perdere tanto Quindi per me Cioè nel senso Veramente io la penso sì Pellegrini sulla tre quarti È un calciatore top Pellegrini da mediano È cristante Ma non è io C'ho problemi col cristante Cioè Non eccelle Quindi Cioè Veramente il discorso Che ti facevo Di Zaniolo eccetera Quasi mi conviene Perdere Zaniolo Per non rischiare Di bruciare Pellegrini E magari perderlo L'anno prossimo Zaniolo Perché se Pellegrini Si va una stagione Da mediano quest'anno Perché deve giocare Zaniolo E poi Zaniolo Comunque se ne va Però su intanto Pellegrini Da giocatore Top player Che stava diventato L'ha fatto diventare Un giocatore discreto Beh mi rodi Perché l'anno prossimo Fai due passi indietro Beh certo Allora c'è da dire Che questo è un problema Che spero di avere sempre Nel senso Cioè Avere l'abbondanza Per poter dire Metto Anche Trovo varie soluzioni Per farli giocare insieme Oppure per mettere Qualcuno in panchina Cioè Mai la Roma Ha avuto questa abbondanza In varie zone del campo Ed è proprio per questo motivo Che sono rimasto sorpreso Che Si parla appunto Di Di non fare altri acquisti A centro campo Sono D'accordo Con l'idea Che non bisogna mai Comprare a caso Cioè Non devi prendere un giocatore a caso Cioè per dire Almeno faccio 5 Ne metto 5 così Tanto per Chiudo il reparto Perché poi la Roma Sta basando il suo calciomercato Sul gestire bene Sia le spese Che le entrate Non facendosi ricattare Dai club rivali Né per quanto riguarda le cessioni Perché le stiamo facendo Per la maggior parte Come si dice Alle nostre condizioni Ma anche per gli acquisti Perché Hai preso giocatori Con la possibilità Di essere coperto In entrambi i casi Sia che facciano bene Sia che facciano male Quindi Come ho detto Sono rimasto speso Da questa possibilità Ma Non è detto Che sia un errore Bisogna capire Se la Roma adesso Vuole E può Soprattutto Puntare tutto Su un unico reparto La difesa Oppure Se può effettivamente Prendere un altro Centrocampo E uno dietro Cioè se voi mi dite Se uno mi domanda Ti prendi un centrocampista In più Su quel reparto Però Riesci anche A prendere un centrale Forte di livello Io ti dico Ovvio ci metto la firma Se invece mi dici Scegli E ti faccio rispondere Non prendi un altro Centrocampista Dai più spazi a Bove Ma prendi un centrale Con i contro coglioni Prendi un centrale Belotti E chiudi qua Il mercato in entrata E poi Per quanto riguarda Le cessioni Mettiamo solo Gli esuberi Non giocatori importanti Cioè Carles Perez Che domani dovrebbe essere Del Celta Vigo Klaibert Shomurodo Eventualmente Eccetera eccetera E chiudili il mercato Tu faresti così Nel senso Se ti dicessero Non prendo nessuno A centrocampo Ma Uso quei soldi Per il centrale Saresti d'accordo? Allora io sarei d'accordo Io sarei d'accordo Allora ti dico Che per me la cosa Sarebbe ancora meglio Se si prendessero due toppe Una dietro E una a centrocampo Ma non tipo Grazie No In senso Non due forti Va bene Cioè Allora Tra Due toppe Uno forte in difesa E niente a centrocampo E uno forte a centrocampo E niente in difesa Preferisco due toppe Quindi due giocatori Che mi fanno stare tranquilli Che quando li metto Tipo Ti sparo Tipo Collei della Samp Per dirti Non è un top player È un buon giocatore Però Nel senso Se c'è un problema Perché siamo in tre titolari E quattro totali C'è un quinto Metto lui E non penso Che insomma Se la butti dentro Può anche capire Una cosa se lo fa Però nel senso Non è che è un danno Per la squadra Ecco Preferisco questo Però se devo scegliere O uno o l'altro Scegliono stare dal difensore Perché a centrocampo Siamo abbastanza Coperti Però poi io Poi poi Ho finito Ti propongo sempre La stessa discorsa E ti dico Però perdonami Non voglio farla Mi gratto completamente E grattati anche tu E ti dico Metti che Due giornate E un centrocampista A caso Sceglilo tu Ma dice Chi ti parà a te Se spacca Perché No Allora Può capitare Però può capitare No Cioè una cosa E vattenuto in considerazione La Juventus C'è mezza squadra fuori Vattenuto Ecco Che succede? Perché tu devi fare Tutta la stagione Con Cristante Vinaldum E Bove Tutto l'anno Cioè numericamente Il problema c'è Visto che numericamente Non vorrei ricominciare Con il problema Mi piacerebbe prendere Anche Pippettigno Però da poterlo mettere In mezzo al campo Eh esatto Mi prendi Colle e Scout E ne ho stop Colle e Scout Belotti Chiudo il mercato Ciao me ne vado Sì beh Diciamo che allora Io sarei d'accordo E poi qua chiudiamo il video Che sennò viene troppo lungo E che per quanto riguarda Centrocampo e attacco Sarei a posto Dietro secondo me Serve un qualcosa in più Di quelli che hai adesso E Mourinho lo sta confermando Perché nell'ultima amichevole Ha giocato Vigna A sinistra Già in più occasioni E se tu Con tutto il rispetto Metti un adattato Che non è neanche fortissimo In difesa Ma parlavi di Vigna? Esatto Io credo che sia un disadattato Poverino No da parte scherzi Comunque Se tu lo metti là Mourinho non fa mai le cose a caso Le fa per dire Intanto se ne va Ciao Simone Ciao E dicevo comunque Se lo fa È perché vuole mandare Un messaggio Forte e chiaro Cioè lui vuole Un giocatore lì Vuole un difensore forte Vuole un difensore Se possibile Mancino Che ti possa fare Il titolare In modo da spostare I vari bagnez Con Bull e con Pagnia Bella Come panchinari Perché per me Con tutto rispetto Una difesa formata Da Mancini Smalling e Bangez Per tre competizioni Non va bene Non va tanto bene Però vediamo un po' Io comunque ho piena fiducia Nel mercato della Roma Perché finora ci siamo mossi Molto bene Se in entrata Che in uscita Vediamo un po' Quale sarà la situazione Al 31 agosto Finisce il 31 agosto Il primo Il primo settembre Il primo settembre Vediamo un po' Come si completerà la squadra Però in generale Stiamo andando Secondo me Nella direzione giusta E E speriamo appunto Che le cose vadano bene Tutto qui La frase proprio più Semplice possibile Ma è l'unica Che possiamo fare Un saluto a tutti Vado armi Sì perché Puzzo È schifo Ma pura Che schifo Forza Roma Forza Roma Ciao ragazzi Voglio Solo star con te